Iniziamo di nuovo a 7-eleven Stiamo scegliendo Debi ci vuole qualcosa Lasagna Va bene, mi piace questo Ok, pasta Zetti Una e due Creme shallows E questo sandwich Questo Cosa Cosa Questa vuole a Buon Cosa Che cosa vuole? Cosa Dice Cosa 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 che vuoi comprare? ma questo è... non so... ford ford so we are also going to take one of these i love you i love you i love you too i love you too yeah i love you too wow wow and so just this was and i arrived Ah, c'è un po' di grigio. Perché hanno fatto il lavoro di questa company. Ok, questa è la company. Pagani 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 Pagani